ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco aspirinetta bugiardino il farmaco aspirinetta è un farmaco di classe c il principio attivo dell'aspirinetta è acido acetilsalicilico il prezzo rilevato per la vendita di questo farmaco è di circa 3 euro e 35 centesimi a confezione scheda tecnica aspirinetta aspirinetta antipiretico analgesico usato per il trattamento di malattia reumatica sindrome di kawasaki controindicazioni aspirinetta aspirinetta e controindicata in caso di ipersensibilità al principio attivo acido acetilsalicilico o ad altre sostanze strettamente correlate da un punto di vista chimico e barra o ad uno qualsiasi degli eccipienti ipersensibilità ad altri analgesici antidolorifici barra antipiretici antifebbrili barra farmaci antinfiammatori non steroidei fans ulcera gastroduodenale diatesi emorragica insufficienza cardiaca o epatica o renale gravi deficit della glucosio 6 fosfato di idrogenasi g6p di barra fabismo trattamento concomitante con metotrexato a dosi di 15 mg barra settimana o più o con varfarin anamnesi di asma indotta dalla somministrazione di salicilati o sostanze ad attività simile in particolare farmaci antinfiammatori non steroidei ipofosfatemia gradi danza ultimo trimestre e allattamento asma aspirinetta non va utilizzata in corso di affezioni virali come ad esempio varicella o influenza a causa del rischio di sindrome di rei e confezioni aspirinetta 30 cpr 100 mg farmaci equivalenti ditta produttrice bayer spa bb farma srl aspirinetta somministrazione aspirinetta 100 mg compresse acido acetil salicilico una compressa contiene principio attivo acido acetil salicilico 100 mg eccipienti cellulosa polvere amido di mais saccarina sodica aroma lampone le compresse di aspirinetta vanno di preferenza disgregate direttamente in acqua oppure masticate e quindi deglutite con abbondante liquido dosaggi aspirinetta aspirinetta viene comunemente somministrata nei seguenti dosaggi bambini di 1 3 anni 1 compresso 1 2 volte al di bambini di 3 5 anni 1 compresso 3 volte al di bambini di 5 11 anni 2 compresse 3 volte al di ragazzi di 11 15 anni 3 compresse 3 volte al di non superare le dosi consigliate per le dimensioni ridotte e il gradevole sapore di frutta le compresse di aspirinetta da 100 mg si possono far sciogliere in bocca anche dai pazienti più piccoli sindrome di kawasaki il trattamento dovrebbe iniziare con una dose di 80 100 mg bar a chilogrammi di peso corporeo al giorno in quattro dosi singole ed essere protratto fino al quattordicesimo giorno di malattia tale trattamento deve essere seguito da una dose giornaliera di 3 5 mg bar a chilogrammi di peso corporeo per 68 settimane effetti aspirinetta come tutti medicinali anche questo può causare effetti indesiderati sebbene no tutte le persone li manifestino gli effetti indesiderati osservati più frequentemente sono a carico dell'apparato gastrointestinale tale percentuale aumenta sensibilmente nei soggetti a rischio di disturbi gastrointestinali questi disturbi possono essere parzialmente alleviati assumendo il medicinale a stomaco pieno la maggior parte degli effetti indesiderati sono dipendenti sia dalla dose che dalla durata del trattamento gli effetti indesiderati osservati con l'acido acetil salicilico sono generalmente comuni agli altri fans patologie del sistema emolinfopoietico prolungamento del tempo di sanguinamento anemia da sanguinamento gastrointestinale riduzione delle piastrine trombocitopenia in casi estremamente rari a seguito di emorragia può manifestarsi anemia acuta e cronica post emorragica barra sideropenica con le relative alterazioni dei parametri di laboratorio e di relativi segni e sintomi clinici come astenia pallore ipoperfusione patologie del sistema nervoso cefalea capogiro raramente sindrome di reie da raramente a molto raramente emorragia cerebrale specialmente in pazienti con ipertensione non controllata e barra o in terapia con anticoagulanti che in casi isolati può essere potenzialmente letale aspirinetta in gravidanza aspirinetta e controindicata nell'ultimo trimestre di gravidanza e nell'allattamento nel primo e secondo trimestre di gravidanza deve essere usata solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui la rapporto rischio barra beneficio nel proprio caso consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità aspirinetta e controindicata durante l'allattamento grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato